1, 2, 3, 5, 6, good. 1, 2, 3, 5, 6, good. 1, 2, 3, 5, 6, good. 6, good. 6, good. 6, good. Quindi, per chi non ha mai fatto il 2, a posto di avere l'1 e il 5, abbiamo il 2 e il 6, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, best, 6, 7. 1, 2, 3, minus, 6, 7. 1, 2, 3, minus, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, stop. 1, 2, 3, minus, 7. 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 Il chiamo in due, il chiamo in uno, e dopo 20 settimane, 10 settimane, un po' là. Vedete le schismanze in la fede, le figure in la fede, e a la fine del chiamo, la mano più dura è in la fede. Il chiamo in due, il chiamo in due, il chiamo in due. Grazie.